Allora, signor Laguale, dagli accertamenti che abbiamo fatto, ho andato fuori un bel po' di roba. Sì. Anzi, le leggo qui l'esame diagnostico, va bene? Eh sì, le legge che non capisco io. Sindrome eccitocatabolica, ipersimpaticotolica, cinestopatica-anoressizzante con stato depauperativo mutico del patrimonio muscolo-difoso-depatico, visceroptosi addominale globale, discenesia di tipo ipocinetico-antropiloro-duodenale. E questo è quanto? Eh, dottore, è grave? Eh, si avviene. Prendi questo bigliettino da visita. Ah, mi manda uno specialista, dottore? No, è un amico delle pompe funerive. No, di che ti mando io. Ti tratta bene. Tranquillo. Ma è mostro che tranquilli, dottore. Beh, grazie, arrivederci, dottore. Ma, guarda, te le prego. Grazie, te le prego. Grazie, te le prego. Grazie. Arrivederci. Chiamare. A presto.